bat in italiano significa bagno la città è così chiamata perché qui ci sono le uniche sorgenti calde della gran bretragna i romani utilizzarono le acque a fini termali la città è la città Le terme di Bhatt ricevono ogni anno circa un milione di visitatori e si dice che siano le terme antiche più visitate nel mondo. Scavi eseguiti nel corso degli anni I romani costruirono le terme di Bhatt nel 75 d.C. nella città allora chiamata Acquesullis. Plastico che riproduce le terme. La città è la città della città. Sulis era un'antica dea celtica. I romani l'adorarono sotto il nome di Minerva. Le legioni romane abbandonarono la Britannia nel 410 d.C. Questa fu invasa dai Sassoni e le terme furono abbandonate. La Primaesa La Primaesa La Primaesa La Primaesa La Primaesa Sarei Si swore che non sarebbe mai tornato a Bath again. Si non sarebbe venuto quando si chiamava. Si è entusiasmato.